Buonasera a tutti, grazie per questo premio e grazie a tutto il team di gestione di ACOMEA. Ancora una volta puntare sulle piccole e medie imprese italiane ha aiutato la performance del fondo oltre che aiutare il paese. Il nostro è un paese fatto di piccole e medie imprese, tra la spina dorsale dell'Italia, le cosiddette multinazionali tascabili e noi con la nostra strategia cerchiamo di aiutare queste aziende a crescere, a diventare sempre più conosciute ed essere sempre più appetibili per investitori istituzionali italiani ed esteri. Quindi il fondo si focalizza su questa realtà e la chiave del successo è sicuramente una gestione attiva, puntare su questa realtà il contatto continuo con gli imprenditori e, cosa non importante ma principale, un'ottica di gestione di lungo periodo quindi da investitori pazienti che non guardano soltanto al prossimo trimestre ma guardano al futuro di questa azienda. Siamo orgogliosi di ricevere per dieci anni consecutivi il premio prestigioso del Sole 24 Ore Alto Rendimento. Mantenere un approccio razionale, trasparente e persistente nel tempo, anche di fronte a situazioni di mercato particolarmente difficili come quelle che abbiamo avuto nel 2022, sono i principi su cui basiamo il nostro operato e che ci ha permesso di raggiungere questi importanti risultati. Nonostante il difficile periodo che stiamo ancora affrontando, seguire uno stile di gestione attivo, contraria e orientato al valore è ciò che ci contraddistingue nel tempo. Vogliamo ringraziare i nostri partner commerciali, i clienti che ripongono ogni giorno la loro fiducia in noi e condividere con il team di gestione e con tutti i dipendenti questo prestigioso riconoscimento.